La Chiesa e ogni cristiano devono stare attenti a non chiudersi in un sistema di norme, ma a lasciare spazio alla memoria dei doni ricevuti da Dio, al dinamismo della profezia e all'orizzonte della speranza. Lo ha ricordato Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino celebrata nella cappella di Casa Santa Marta, commentando la parabola di Gesù detta dei vignaioli omicidi proposta dalla liturgia. I vignaioli che uccidono i servi e il figlio del padrone, che rappresentano i profeti e Cristo, quando il padrone reclama il raccolto, ha spiegato il Papa, sono l'immagine di un popolo chiuso in se stesso, che non si apre alle promesse di Dio, che non aspetta le promesse di Dio, un popolo senza memoria, senza profezia e senza speranza. Così si legittimano i dottori della legge e teologi che sempre vanno sulla via della casistica e non permettono la libertà dello Spirito Santo, non riconoscono il dono di Dio e il dono dello Spirito e ingabbiano lo Spirito. A questa gente Gesù, perché conosceva in sé stesso la tentazione, rimprovera. Voi girate mezzo mondo per avere un proselito e quando lo trovate lo fate schiavo. Questo popolo così organizzato, questa Chiesa così organizzata, fa schiavi. E così si capisce come reagisce Paolo quando parla della schiavitù della legge e della libertà che ti dà la grazia. Un popolo è libero, una Chiesa è libera quando ha memoria, quando lascia posto ai profetti, quando non perde la speranza. La Chiesa è libera